Questo video riguarda i migliori tre piatti doccia. Il vincitore della qualità è il novellini Olympic Plus. Prezzo IVA inclusa. Garanzia valida due anni per privati ed un anno per le aziende con partita IVA. La fattura deve essere richiesta al momento dell'acquisto. Se la fattura non verrà richiesta al momento dell'acquisto, verrà emesso lo scontrino fiscale e non sarà più possibile richiedere la fattura. Prezzo in offerta. Ir possibile richiedere un'offerta personalizzata. Assicurazione inclusa nel prezzo. Se la spedizione deve essere effettuata in zone disagiate è previsto un piccolo supplemento. Tempi di consegna di circa 15 barra 20 giorni lavorativi. Può essere richiesto il ritiro in sede del prodotto. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il duca piatto doccia. Piatto in marmoresina con minerali in oimitazioni struttura piena lato posteriore in marmoresina. Classe antiscivolo 3. La superficie è rivestita da un film di gel coat sanitario antibatterico. Spessore 3 cm. Antigraffio rifiniti su tutti i lati piletta e griglia inclusa è possibile il taglio con disco diamantato. Se lo richiedi, lo tagliamo noi gratuitamente. I tempi di consegna saranno diversi da quelli indicati. Come funziona il taglio su misura? Offriamo la possibilità di realizzare un taglio su misura lineare senza costi aggiuntivi. Seleziona nelle opzioni misure, le misure superiori al taglio che hai bisogno. Dopodiché dovrai scrivere le misure del taglio su misura del piatto doccia in resina. Lasciando un messaggio al venditore esempio taglio su misura piatto doccia. Se hai bisogno di un piatto doccia in resina con una misura di 83 x 100 cm dovrai scegliere nelle opzioni misure. Il modello 90 x 100 cm indicando poi nel campo disponibile sotto la misura esatta desiderata. Il vincitore del premio è il shower online doccia. Rimborsiamo il 100% del prezzo pagato. Se cambia di idea prima di installarlo punto ma siamo sicuri che ti piacerà. Il piatto doccia shower online è disponibile in più di 500 colori e misure diverse punto se preferite. Potete tagliare il vostro piatto doccia durante l'installazione in loco con una sega radiale utilizzando un disco diamantato. I piatti doccia di shower online sono antiscivolo ed extraplanos, due caratteristiche che forniscono il massimo livello di sicurezza durante la doccia. Lo spessore di tutti i nostri piatti doccia è di 3 cm, il che significa che saranno posizionati quasi a livello del pavimento, permettendo una maggiore accessibilità, soprattutto per le persone con mobilità ridotta. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.